stasera qualcosa di completamente diverso location diversa video recensione diversa dal solito quantomeno molto più corte del solito e parliamo di ticket il nuovo pezzo scritto da elton john insieme a eddie vedder e pubblicato sul nuovo disco del cantante inglese the lockdown session uscito il 22 ottobre del 2021 la canzone può ricordare certi classici di elton john come crocodile rock o saturday night all right ovviamente non raggiunge le vette di certi capolavori di john e però comunque è un pezzo convincente e divertente soprattutto divertente dove i due cantano del ticket elettronico in su un groove piuttosto buono ricordiamo che tra i musicisti coinvolti c'è andrew watt ormai factotum dietro a tutte le produzioni di eddie vedder e taylor hawkins dei fu fighters alla batteria e purtroppo del disco invece di john non posso parlare un gran che bene anzi è un disco piuttosto mediocre con troppi pezzi e i quali ne salvo solo tre o quattro soprattutto i pezzi finali quelli con stevie wonder steven x e glenn campbell e la parabola discendente degli ultimi 35 anni di elton john che ricordiamo ha scritto dei capolavori pazzeschi inizia anni 70 però pare non arrestarsi e mi ricordo da vicino la parabola discendente anche dei colpi che proprio ieri sera seattle hanno come realizzato in una maniera piuttosto indecente noti man dei per gemma i colpi però ovviamente non hanno mai scritto capolavori come quelli di elton john sono stati sopravvalutati come band sia dal pubblico che dalla critica e si stanno dimostrando per quello che sono una band mediocre che fa cover anche mediocre anche sotto la sufficienza e per questa sera è tutto alla prossima video recensione